Garessio, Cuneo. Un uomo è morto carbonizzato a seguito di un frontale tra due auto avvenuto oggi pomeriggio sulla statale 28 del Colle di Nava, tra Garessio e Priola, in provincia di Cuneo. E altre tre sono rimaste gravemente ferite nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di 118, con l'ausilio dell'elicottero, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Il traffico tra Priola e lo svincolo per Borgo Ponte è chiuso in entrambe le direzioni. Grazie.